Siamo con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, con noi il Presidente Enrico Valentini che è venuto a Sansepolcro e siamo di fronte alla stazione ferroviaria per una singolare protesta. Si può parlare di protesta? Mi correga se sbaglio. Assolutamente no, di proposta. E di che proposta si tratta? La proposta è il recupero di tutte le ferrovie dimenticate che sono nella nostra bella Italia e ce n'è tantissime. Sedimi ferroviari dismessi, ferrovie abbandonate e quant'altro. Noi chiediamo, il comitato comodo di cui la FIAB aderisce, e noi siamo il circolo di Arezzo della FIAB, io sono un Presidente, non so Presidente della FIAB, propone il recupero, si pone come recupero della ferrovia dell'Appennino Centrale. La ferrovia dell'Appennino Centrale, come tantissimi altri percorsi nel nostro paese, possono essere recuperati come percorsi ciclopedonali ed ippovie. Quindi per far capire meglio ai telespettatori, voi non proponete di riaprire la ferrovia, ma di una soluzione alternativa? Questa ferrovia ovviamente non può essere riaperta, essendo stata una ferrovia a scartamento ridotto, quindi con pendenze fino al 30-35x1000, quindi era una ferrovia di montagna, l'epoca di 130 anni fa quando fu pensata e costruita. In realtà è un percorso ancora recuperabile, con bellissime opere d'arte, è recuperabile come percorso turistico, ciclopedonale ed ippovie. Voi avete degli esempi a cui vi ispirate? Ad esempio l'Austria, ad esempio la Germania, ad esempio la Spagna, ad esempio la Francia, quindi gli esempi sono in tutta Europa. Esempi che voi avete percorso in bicicletta? Io personalmente vado all'estero per le mie vacanze in bicicletta perché l'Italia, con rispetto parlando, fa schifo da questo punto di vista, fa letteralmente schifo. Bisogna che le nostre autorità preposte si diano una mossa se vogliono il turismo perché gli italiani vanno all'estero. Se l'Italia fosse organizzata come l'Austria, in Toscana, in Umbria, nelle Marche ci sarebbe la fila. Un anno per quell'altro dovrebbero staccare il biglietto per fare questi percorsi. Quindi la sua testa è assolutamente severa. Ma il problema è un altro. Lei è sicuro che si potrebbero trovare dei fondi per fare quello che propone? I fondi si trovano via via, volta per volta. Basta pensare al Camino de Santiago. Non l'ha pensato nessuno. Sono venuti pezzo per pezzo. Ognuno ha una Camera di Commercio, una provincia, un comune, una comunità, una parrocchia, una polisportiva. Quello che vi pare, su una rete ha fatto il suo pezzettino. E su questo si aggangiano. Non c'è bisogno di megaprogetti galattici. C'è bisogno di grandi idee declinate localmente. Quindi bisogna che ognuno si dia da fare localmente. Ogni comune faccia il suo. Ogni provincia faccia il suo. Su questo ci si rinnesta una grande rete ciclopedonale turistica che può dare grande impulso al turismo nel nostro paese. Prendiamo una domanda anche a Giovanni Cardinali che è il segretario del gruppo Aretino di questa federazione. Allora, voi praticamente partite da Sansepolcro. È una realtà che voi conoscete bene. Ma credete davvero che sarebbe possibile riaprirla ed è possibile tecnicamente farlo? Allora, io oltre ad essere al segretario del circolo amici della bici di Arezzo sono anche un ingegnere che fra l'altro sta curando la nuova ferrovia Arezzo-Sansepolcro-Rimini-Ravenna che è stata inserita nel programma delle ferrovie nazionali nel piano dei trasporti del 2001. Rimane questo sedime ferroviario che è un patrimonio storico che va salvaguardato e per cui è abbastanza corretto dire che il sedime va conservato per trasformarlo in pista ciclopedonale. Per sedime si intende l'assetto dove correva prima la ferrovia? Certo, è un assetto di circa 2,50-4 metri variabile che va tutto ripulito. Noi abbiamo fatto stamattina, siamo passati anche all'interno delle gallerie dal Valico del Torrino al Palazzo del Pero, va tutto ripulito, va sistemato con una modica spesa, abbiamo un itinerario cicloturistico che può collegare a Valtiberina con il Val d'Arno, con Arezzo e il Val d'Arno, cioè lì è prevista la ciclopista dell'Arno, ci sono in Europa 30 milioni di ciclisti potenziali che potrebbero venire a percorrere questi itinerari. Ma oggi costruire qualcosa del genere non si sconta anche sulle proprietà private? Alcune proprietà private purtroppo hanno interessato una parte del sedime ferroviario nel Comune di Anghiari tutto il sedime è demaniale e quindi è integralmente recuperabile. Per quanto riguarda i privati la proposta, come in tutte le opere pubbliche, è quella di procedere ad espropi e quindi di garantire la continuità del percorso.